Tutti, grazie davvero, grazie Presidente Orsini, grazie per questo invito, saluto ovviamente tutti i ministri, le autorità presenti, saluto i delegati e voglio dire che sono contenta di essere qui oggi. La mia prima volta nell'intervento all'Assemblea Generale di Confindustria è la prima volta anche per il Presidente Orsini e quindi, come tutte le prime volte, ricorderemo questo giorno Presidente. Grazie davvero per questo invito, per questa opportunità. Voglio dire sinceramente che ho molto apprezzato la relazione del Presidente Orsini, voglio dire che condivido molti degli spunti e delle proposte che contiene, così come condivido l'analisi di scenario che ha accompagnato quegli spunti e quelle proposte sui rischi che l'economia italiana e l'economia europea corrono se non si invertono in modo deciso alcune tendenze. Prima di tutto però voglio fare i complimenti al Presidente per l'accento, chiedo scusa, che poneva sul tema della responsabilità sociale delle imprese. Chiaramente una responsabilità sociale che va a beneficio dei lavoratori, della comunità, sono come si sa aspetti ai quali Confindustria ha sempre dedicato un'attenzione che tuttavia non era scontata. È un passaggio che voglio sottolineare perché mentre il Presidente Orsini parlava le sue parole mi hanno fatto tornare alla mente quelle di un altro, di un grande imprenditore, di un grande italiano, di un uomo che nell'industria italiana ha lasciato un'impronta indelebile e quell'uomo è Adriano Olivetti.